Jack 1790G Asolatrice elettronica multitaglio Azionata da un motore passo passo Basse vibrazioni, basso rumore, alta efficienza Cucitura continua, industria 4.0 E' adatta a camice, divise da lavoro e polo Basse vibrazioni, basso rumore Confortevole da utilizzare grazie alla silenziosità Punti perfetti Meccanismo di oscillazione dell'ago e alza piedino Controllati da un motore passo passo Garantisce stabilità e precisione nella cucitura Aumentata la velocità di alzata del piedino e di discesa del coltello Nuovo pannello touchscreen di ultima generazione Adatta a diversi tipi di materiale Evita il problema di rottura del filo Filo allentato e taglio instabile Il coltello motorizzato assicura basse vibrazioni A bassa rumorosità e senza intoppi nel taglio Cucitura perfetta su materiale intrecciato e maglieria Attribuiamo grande importanza all'utilizzo della macchina su diversi tipi di tessuto Per questo è possibile, cambiando dei singoli pezzi, ridurre il costo del lavoro e aumentare la produttività Ad esempio, l'esclusivo piedino premistoffa permette di tagliare il filo corto a 2,5 mm Cucitura continua 1790G può cucire molti tipi di asola Questo riduce il costo del lavoro e aumenta l'efficienza Funzioni optional Attraverso il sensore di rilevamento fine spolina La macchina ci avvisa e si ferma prima di rovinare il capo Attraverso il sistema IoT è possibile connettersi alla macchina Con un'app e vedere statistiche e modificare i parametri Grazie a tutti